Bene, oggi abbiamo preparato questo tipo di partita, penso che avevamo poco da perdere, giocavamo contro una squadra sulla carta più forte di noi, per cui ho pensato di dare questo alla squadra, di andare in avanti, di andare a prendere dal portiere, di giocare dal basso, è chiaro che qualcosa avremmo potuto rischiare, come è stato, perché in Serie A ogni passaggio che fai, ogni disimpegno che sbagli, rischi di prendere gol, ma non mi interessava, anche sul 2-0 comunque ero contento della prestazione della squadra, ho visto il possesso palla, le occasioni da gol, venirle a fare a Genova, non è semplice, da neopromossa, da una squadra che era sotto 2-0, per cui ci sono tanti lati positivi, ci sono anche quelli negativi da analizzare, però oggi la squadra è stata brava, ma questo dovrà essere, insomma, il nostro spirito. Cosa ha detto a Tanti Gola? Ma che siamo contenti, insomma, i calci piazzati, noi ci lavoriamo tanto e l'anno scorso ci hanno dato tanti frutti in Serie B, perché penso che il 30-40% dei gol li abbiamo fatti da fermo e oggi abbiamo confermato questa attitudine, nonostante in Serie A ci sia molta più fisicità, però, insomma, è stato bravo, oggi era il capitano perché non giocava a maggio e sono contento per lui, perché ritornava, insomma, in Serie A ed è stato un bel debutto, insomma, per lui e Letizia che hanno fatto i gol. Bella serata per la famiglia di Zagli, avete raccolto 6 punti di trasferta, vi siete sentiti? Sì, sì, abbiamo fatto anche collegamento, insomma, oggi è stata una bella giornata, arriveranno giorni più, anche più complicati, soprattutto per noi, perché Simone, insomma, ha una grande squadra, è molto bravo, per cui, insomma, oggi godiamoci questo momento, anche se, insomma, già da mercoledì saremo di nuovo in campo contro una delle squadre più forti d'Europa, per cui, insomma, dobbiamo subito resettare tutto. Ma sono le partite più belle, dove, chiaramente, parti sconfitto in partenza, però cercheremo di vendere, insomma, cara la pelle e cercare di lottare su ogni palla, poi è chiaro che le differenze sono tante, però, insomma, quando si parte c'è sempre sullo 0-0, per cui, come oggi, cercheremo di dare il meglio e vedremo se basterà. Prego. Roberto Corrado, cronaca del Sannio, di Fabio, tutti i complimenti. Puoi dire se c'è stato un momento in particolare della gara in cui hai pensato che l'impresa potesse essere fatta? Ma, ho già risposto, perché vedevo la squadra in controllo della partita, ho visto che facevano la partita, che nonostante eravamo sotto, continuavamo a giocare e anche avere padronanza del campo, per cui, devo essere sincero, ho avuto sempre la speranza di poterla ribaltare. È chiaro che su 2-0, pensare di vincerla, insomma, ecco, una cosa che oggi mi rende molto felice, che è una neopromossa, che per il 2-0 va sul 2-2, di solito, nove volte su dieci, si accontenta. Invece, i ragazzi hanno avuto lo spirito giusto per andarla a vincere. Ecco, questo penso sia veramente la cosa bella di oggi. Grazie.